Pronti perché torna Full Metal Jacket con il signor Ennio Bestegno Lo solo di 105 presenta Full Metal Jacket Capito bene, luridissimi vermi Signor sì, signore Prozzo Come ti chiami, faccia di merda? Chi è? Tu su chi cazzi? Chi sei? Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Ma perché le rompi i coglioni, chi sei? Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore Ma non ti conosco io Tu su chi cazzi? Ma il tuo sora è la tua madre su chi cazzi, quella puttana Tu su chi cazzi? Ma por... Brutto sacco di merda, io ci metto sotto, ti farò un culo così Ma chi cazzo, ma che vengo lì, ti apro la testa come un vero grano dopo, ti sgrano po... In casa... Non mi fai scattare che sono già la madonna facile, pur... In casa contraria ti scrappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello Ma por... Ma che sei masso? Ma chi cazzo si conosce? Come ti chiami faccia di merda? Egnio, Egnio, Egnio Con la no, con la doppia no, Egnio No, bellissimo Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella Non ti capisco, beh 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 Parla più piano che non ti capisco Mamma, chi sei? Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio Senza usargli la cortesia di menargielo davanti per sdevitarsi Ti terrò dracchio Ma vai a più piano, vacca, vacca Non ti capisco, porca La brucia, chiama Ma chi cazzo sei? Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore Chi cazzo sei l'istruttore? Ma porca Ma tu mi fai venire già quel cervello? Ma chi sei? Chi è che ti ha dato il suo numero? Ma dimmi un po', dimmi un po', ma chi cazzo sei? Ah! Ma tua madre! Ah! Ma penso te, ma tua sorella, tua puttana che ti ha messa al mondo, ma cazzo! Tu su chi cazzo? Ma tua madre su chi cazzo? Ti apri la testa in quattro p***e Madaglia! Non ti chiamare più! Vaffa al culo! Io non ti conosco! Dovrei capire che non ti conosco! Datti subito una regolata, amico mio! Se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola! Ma devi provarti, ragazzi! Sbitarmi il cranio! Ti devi provare! Ah! Ah! A tua madre! Ah! Vaffa via al culo, vaffa! Tanto! Tu su chi cazzo? Madaglia! Fino a qualche minuto fa era un classico egno normale, ma da ora lui diventa egno bestegno! Io questo non me lo faccio scappare, non di facilmente! Dopo questo affronto posso solo dargli il colpo finale, riutilizzando le voci che ho appena registrato e richiamarlo subito! Se risponderà, parlerà con se stesso! Se riconoscerà, non la so! La risposta a tutto questo ce lo dà solamente una cosa! Il test di personalità! Il test di personalità! Pazzo malato! Rotto! Chi è? Rotto! Chi sei? Rotto! E se stesso? Rotto! Madonna! Chi sei? Dove sei? Manco non ti chiami! Chi sei? Chi sei? Madonna! Manco ti conosco io! Che? Manco ti conosco io! Ma anche io ti conosco! Bazzo! Bazzo! Perché sei tremendo! Ma te sei un pirro volente sei! Ma te ti devono andare a mandare con lo siena tanto che sei un pirro volente! Bazzo! Dove chiami? Bazzo! Mastardo! Bazzo! Bastardo! Bazzo! 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 ma che sei? 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 ma io? ma non sai che io che mi sono la testa, eh? ma io te lo vi con il cervello ma te lo apro come un melograno ma che sei? ma che che è? che è di nuovo? Enio, Enio, Enio Enio, Enio va con voi tua madre la testa in quattro 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 pronto chi è? ma che di cazzo sei tu? ma tu mi sei amato ma non puoi essere vero ma stai ma stai si deve trovare e lasciami stare no 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 no